Passiamo all'altra basilica importante, la basilica di Roma per eccellenza, di San Giovanni. Perché si chiamano i San Giovanni? Qui vedete che ci sono lo sfondo della facciata della chiesa di San Giovanni e poi ci avevano due santi ma anche un punto interrogativo e lo sentirete perché da versi del bene. Lì San Giovanni. Non ci imbrogliamo con le specie, piano. Un conto è San Giovanni evangelista, un altro conto è San Giovanni battista e un altro San Giovanni laterale. Il primo è quello che ha la penna in mano, l'uccello fra le gambe e fa la lista. E il secondo è la statua che hai vista che battezza il Signore nel Giordano. E il terzo, finalmente, è un San Giovanni che non si possa tecchi bestiasi. E non l'ho mai capito in quarant'anni. Sì, chi diavolo vuoi? Questo non preve. Però quel laterano è una pazzia che abbia da te. Due San Giovanni insieme.